Attilio Urciuolo, e-commerce e web design Non è stata possibile, aggiunge Valiante Da cosa scaturiva la richiesta di approfondimenti? Il nostro capolista Guido Davanzo spiega Valiante per soli 45 voti non è entrato nel novero dei delegati all'Assemblea Nazionale Tuttavia, escludendo il riconteggio dei voti da capo l'unica alternativa possibile per Davanzo era un ricorso per eventuali irregolarità che non risultano e che neppure sarebbero ipotizzabili per l'impossibilità di accesso, per motivi di privacy ai nomi dei votanti iscritti Nessuna irregolarità in Irpinia, dunque la conferma arriva anche dai livelli regionali Sono stati convalidati all'unanimità i verbali delle commissioni provinciali spiega la delegata Paola Bairano Alla commissione sono pervenuti rilievi esternati dai rappresentanti delle mozioni Orlando ed Emiliano relativi alla verifica di documenti che sono in possesso delle commissioni provinciali e non della commissione regionale che non risulta quindi competente Tali rilievi, spiega ancora Bairano non erano supportati da precise questioni di irregolarità e in ogni caso dovevano essere avanzati e risolti nelle commissioni provinciali Dunque, in Irpinia, salvo sorprese poiché nessuna nota ufficiale è stata ancora diramata risulteranno eletti all'Assemblea Nazionale in programma domenica De Luca, D'Amelio, Gaeta, Maffei e Iovino per la mozione Renzi Jacobelli per la mozione Orlando Sera diffusa voce di una possibile esclusione di Iovino eletto con resti e non con quoziente pieno una ipotesi che non trova fondamento poiché minerebbe il principio della rappresentanza territoriale che assegna sei delegati all'Irpinia Democratica questo è il quadro in attesa delle doverose comunicazioni ufficiali dal livello regionale del partito sugli eletti provincia per provincia grazie a tutti